Un saluto a tutti gli amici nerazzurri e bentornati sul canale. Oggi parleremo del Torino di Marco Giampaolo, ma prima di iniziare vi ricordo che potete supportarmi lasciando un like a questo video e iscrivendovi al canale. A voi non costa nulla, ma darebbe al canale più visibilità. Il Torino attualmente ha 5 punti in 7 partite giocate. Di sicuro non è quello che i tifosi Granata si aspettavano, soprattutto dopo il cambio panchina che ha visto Giampaolo subentrare a longo al termine della scorsa stagione. La scorsa stagione ha visto il Torino arrivare sedicesimo in classifica a 5 punti da Lecce in retrocesso. Il modulo preferito da Giampaolo è il 4-3-1-2, modulo che aveva già utilizzato nella sua breve esperienza al Milan l'anno scorso. In questo modulo è fondamentale il ruolo del trequartista, che viene interpretato nel Torino da Lukic e fu interpretato da Cialanoglu ai tempi del Milan. Lukic spesso si alza sulla linea degli attaccanti, cambiando così il modulo offensivo in un 2-1-4-3, con le due punte verdi che si allargano, mentre i due terzini che si alzano nel ruolo di esterni. Ma non solo, anche in fase difensiva il modulo è più simile ad un 4-3-3, dando così l'opportunità alle due punte larghe di poter già pressare alti sugli esterni. Il pressing comincia già nella trequartia avversaria. Il loro obiettivo principale è quello di far sviluppare il gioco all'avversario sugli esterni, dove le punte larghe aiuteranno i terzini a raddoppiare. Spesso infatti vedremo Belotti agire nella zona di competenza dei terzini, proprio per aiutare la squadra. La costruzione del gioco parte spesso dal basso, con i due centrali che palleggiano, dando il tempo ai due terzini di alzarsi, ricevendo il pallone. Oppure la seconda soluzione è quella del lancio lungo verso Belotti, che fa sponda sul trequartista che nel frattempo va incontro per ricevere palla ed impostare. Tra i giocatori importanti di questo Torino troviamo il gallo, Belotti, che ha già segnato 6 gol dall'inizio della stagione, mentre un giocatore che sta deludendo tantissimo le aspettative è Simone Verdi, acquistato a titolo definitivo dal Napoli nella scorsa sessione di mercato per ben 20 milioni. Tra le caratteristiche principali di questo Torino troviamo una difesa schierata molto alta e con linee molto strette. Questo sistema viene utilizzato principalmente per occupare gli spazi centrali. Nei calci d'angolo difensivi Giampaolo schiera 9 uomini all'interno dell'area di rigore con marcatura a zona, 3 uomini all'altezza del primo palo e 6 nella zona centrale dell'area. Ma qui troviamo il primo punto debole della squadra di Giampaolo, perché all'esterno dell'area di rigore il tecnico non schiera nessun giocatore per raccogliere la ribattuta, lasciando così la possibilità all'avversario di prendere il pallone e calciare a rete. Mentre nei calci d'angolo offensivi Giampaolo schiera 5 uomini all'interno dell'area di rigore, 3 posizionati nell'area piccola all'altezza dei pali e 2 che partono più arretrati per poi inserirsi. Quindi quali sono i punti di forza del Torino? È una squadra che gioca molto corta e occupa bene gli spazi. Creano tante occasioni da gol, infatti hanno una media di 9,3 tiri a partita. Il trequartista Lukic è molto bravo negli inserimenti e spesso le punte si sacrificano anche in fase di copertura. Quali sono invece i punti deboli del Torino? Il loro modo di giocare per vie centrali lascia molto spazio sulle fasce, concedono molti tiri da fuori aria, spesso vengono sorpresi in contropiede e lasciano i due difensori da soli in fase di copertura e commettono molti falli al limite dell'area in zone pericolose. La speranza è di ripartire dopo questa sosta delle nazionali con un filotto di vittorie consecutive, partendo proprio dalla partita di domenica contro il Torino per poi arrivare a quella di mercoledì sera contro il Real Madrid. Questo darebbe fiducia e come spesso si dice, vincere aiuta a vincere. Il Torino è una squadra che sa chiudersi molto bene, infatti nella partita vinta per 2-1 contro il Genoa, già sul 2-0, ho visto spesso il Torino giocare in 11 dietro la linea del pallone, con una difesa molto alta e delle linee molto corte. Per chi si aspetta un gioco esplosivo o una partita ricca di occasioni da gol, credo che questa volta rimarrà deluso. Sarà fondamentale il nostro gioco sulle fasce, infatti credo che Hakimi, anche se è uscito un po' acciaccato dalle nazionali, dovrebbe farcela e sarà lui l'uomo incaricato da Conte per disarcionare la fase difensiva del Toro. Come formazione iniziale io prevedo Andanovic tra i pali, De Vrij, Bastoni e Skriniar in difesa, centrocampo formato da Barella e Vidal, i due esterni Hakimi e Perisic, la solita coppia d'attacco formata da Lukaku e Lautaro e come trequartista credo che questa volta avrà una chance Eriksen. Piccolo appunto su Eriksen, a me il calciatore danese sta deludendo tantissimo, sono uno di quelli che lo ha sempre difeso fin da quando ha indossato la maglia nera azzurra per la prima volta e sono uno di quelli che si lamentava per lo scarso impiego del danese, ma quando entra in campo non riesce ad incidere come quando era qui a Londra o come quando giocava nell'Ajax. Detto questo ragazzi io sono interista come voi e spero che lui si riprenda perché è un grandissimo giocatore e ha tutte le carte in regola per fare bene. Voi cosa ne pensate? Ditemi la vostra sul discorso del danese, ma soprattutto lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per conoscere tutti gli schemi delle squadre avversari. Io vi ringrazio e vi saluto. Umberto, l'interista forever. Amala.